Define Banking, FinTech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Benvenuti a questo episodio di Define Banking. Oggi parliamo di personalizzazione della customer experience, un tema che ricorre continuamente ormai da mesi nelle principali analisi sui trend del banking, ma anche dell'insurance in generale, della trasformazione digitale in tutti i settori. Ne parliamo con Antonio Matera, Regional Sales Director di OpenText. Antonio, benvenuto a Define Banking. Grazie e benvenuti a tutti voi. Allora, iniziamo da una delle parole chiave di questo episodio, personalizzazione, che, dicevamo anche prima, è uno dei mantra del banking digitale. A che punto siamo realmente, dal vostro punto di vista, con la personalizzazione della customer experience e dell'offerta di prodotti e servizi da parte delle banche. Guarda, Alberto, dal punto di vista delle banche, sicuramente c'è grande interesse e grande attenzione alla capacità di personalizzare i propri prodotti. Come OpenText abbiamo effettuato una ricerca condotta da Jim Marius, che è il CEO di Digital Banking Report, fatta a fine 2020. Durante questa intervista, oltre la metà dei rispondenti ha indicato come appunto l'esperienza utente digitale sia molto, molto importante e soprattutto anche la personalizzazione. Vengono considerati come i fattori chiave e di maggiore impatto per il mondo finance, soprattutto perché la capacità di analizzare i dati permetterà di conoscere meglio i propri clienti e soprattutto di predisporre dei prodotti più tailor-made, più a misura del cliente stesso. Questo un pochino è quello che ci stiamo rendendo conto, sia il trend quantomeno nell'interesse da parte delle banche. Altra cosa è poi la loro capacità di mettere in campo queste soluzioni. Un'altra espressione che ricorre spesso è mappare la customer journey. Il primo passo da fare per lavorare poi su una customer experience a misura di cliente. Perché le banche dovrebbero investire in questo ambito e quali vantaggi possono ottenerne? Guarda, è sicuramente un aspetto fondamentale la capacità di mappare customer journey, ovvero di cosa si tratta in parole povere. In realtà è un processo semplice concettualmente ma attraverso il quale le aziende, quindi le banche, sono in grado di analizzare come consumatori interagiscano sia col brand che col canale col quale vengono contattati o col quale interagiscono sempre con la banca. Riuscire in questo momento a carpire questo tipo di comportamento non è semplice per le banche. Solo il 16% degli intervistati ha indicato la propria banca come attiva nel monitoraggio sulle attività web, piuttosto che addirittura ancora nelle filiali e nel comportamento dei propri clienti. Più del 42% addirittura afferma di non avere un programma dedicato. È chiaro che monitorare positivamente, anche a cui bisogna stare attenti, monitorare il proprio cliente vuol dire come il cliente interagisce e in base a come interagisce riuscire a realizzare dei prodotti che siano più misurati, più a tailor made, come dicono gli americani, al cliente. Soprattutto in un mondo dove, grazie alla digital transformation, grazie alla situazione attuale di pandemia, le interazioni cliente-fornitore, quindi in questo caso banca o clienti, è sempre più digitale. E questo è, diciamo, l'obiettivo ideale. Poi c'è la realtà. Che cosa manca oggi alle banche per mettere in pratica, per implementare un percorso di questo tipo? È più un problema di visione strategica o di tecnologia? È un po' in tutte e due. Se guardiamo poi il contesto attuale del sistema banca oggi, per via delle fusioni, delle fusioni che si sono in corso, soprattutto nel settore bancario, direi che non è tanto un problema tecnologico, perché la tecnologia c'è oggi, ma è un problema quasi più organizzativo. Sempre secondo la nostra survey, al momento, se il 68% delle aziende ha affermato di aver utilizzato in qualche forma di monitoraggio del coinvolgimento dei clienti, però è più un monitoraggio fatto, figuratevi, sull'attività di versamento e di prelievo, quindi non è che c'è un vero monitoraggio vero e proprio del sentimento di come i clienti si comportano. Il 72% dichiara di utilizzare dei monitoraggi attraverso addirittura sondaggi, social media o qualcuno o qualche app di rating. Quello che si propone di fare è riuscire a capire, analizzare, realizzare delle applicazioni omni-channel che siano in grado di dare un servizio molto più ampio e più personalizzato ai clienti e al tempo stesso siano in grado di produrre quei dati sulla base dei quali la banca possa fare delle analisi e andare sempre di più a creare quel circolo virtuoso che gli permetterà di creare prodotti finanziari più in linea con quello che i clienti stanno cercando. Personalizzare significa anche avere un'offerta adatta in termini di ampiezza e di flessibilità per tutte le esigenze finanziarie e a volte un po' meno finanziarie del cliente. Ci sono alcuni aspetti di prodotto che quindi non ti interessano tanto dal punto di vista della tecnologia, però forse la tecnologia potrebbe aiutare le banche a capire come arricchire la loro offerta dando ad esempio degli insight sui bisogni del cliente in termini distributivi oppure anche con lo sviluppo di partnership oppure con l'ingresso in ecosistemi o in piattaforme insomma potete dare una mano alla banca per capire in che direzione andare. Come dico sempre, la tecnologia è solo uno strumento per arrivare a un fine. Non è banale, non è banale soprattutto nel mondo finanziario che è tipicamente basato su tecnologie un pochino più arretrate, ma in questo storicamente, non perché non siano assolutamente valide. Riuscire a creare dei prodotti come dicevo più tailor-made prevede l'utilizzo di tecnologie attuali che siano in grado di raccogliere delle informazioni e quindi fare quella che noi chiamiamo la predictive analysis, ovvero non tanto quello che è successo, quello che è successo lo si analizza analizzando dati già raccolti che possono essere dati di contratto, dati di un mutuo, quello che già appunto dicevamo fa una banca analizzando anche semplicemente i versamenti o i prelievi fatti da un cliente, ma riuscire anche a implementare soluzioni che permettono quelle cosiddette di customer experience, ovvero soluzioni che siano in grado di analizzare quasi in tempo reale il perché un cliente ha un comportamento, quindi chiedere addirittura un feedback, permette di unire ai dati già raccolti che sono quelli storici che permettono di capire cosa è successo, dati che permettano di analizzare cosa sta succedendo, quindi l'unione di queste due tecnologie permetterà di veramente creare dei prodotti nuovi più in linea con il modo che gli utenti hanno oggi di usufruire di questi prodotti, quindi più digitali. Anche per avere customer retention bisogna avvicinare la banca sempre di più a quello che è il modo dei propri clienti di consumare queste informazioni e quindi bisogna impattare la capacità della banca di fornire ulteriori informazioni e conseguentemente dei nuovi prodotti che attraggano i clienti. Questa cosa ovviamente dovrà prevedere che le banche cambino anche un pochino il modello organizzativo e il modello anche di vendita. Antonio, grazie mille di essere stato con noi oggi. Grazie a voi e ricordate sempre la tecnologia è un mezzo per un fine, non è la soluzione.